La Moneta Succede che c'è cosa? Niente succede. Parata quando stai? Sembra la montagna kinemata. Puoi giustare il cammelano con te. Tu pezzi di merda hai fatto raro. Questi cani di carbone si muocano qua. E tu che fai, pigli e spari? Chi ti ha adesso la autorizzazione? Bello casino quei companasti. Dice che Barrega vuole andare a parlo. Ma è possibile che tremate tutti davanti a sto pesciatore? Ten a mente che il nostro campo non l'ha sotto lui. Più che cosi loro non c'entrano. Sei tu primo dei frati e non sapete niente. Tu vieni con me andi ferrato e ci cerchi scusa. Ma non male che avendo te frate non ti porteranno pochi rispetto. Ma pagano. Vuole una barrega. Ma sapete che significa questo? La guerra significa... ...con usuta la barrega. Io mi sento diversa, non sono come voi. Da ciò non l'abbiamo a fare. Se non ci chiediamo permesso a nulla. Tu te li sei trans? Lucia! 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 Lucia!